Bisogna fare tutto quello che sarebbe necessario nel momento in cui noi decidessimo effettivamente di dare via libera agli OGM. Ripeto per la centesima volta perché non voglio malintesi, io personalmente non ritengo che al sistema economico, all'agroalimentare italiano, giovino gli OGM, anzi tutt'altro. E aggiungo anche che i consumatori non li percepiscono positivamente. Detto questo, se noi vogliamo effettivamente, se si volesse effettivamente arrivare all'introduzione di coltivazione OGM sul territorio, è assolutamente necessario che ci sia un quadro giuridico di garanzia per chi gli OGM non li fa e che vuole continuare a fare il tradizionale o magari addirittura il biologico. La questione la conoscete, è stranota, cioè io se faccio del biologico non mi posso trovare con l'azienda vicino che mi fa una coltura OGM e con tutte le contaminazioni possibili sulla mia produzione, perché io vado poi rovinato, nel senso che non vendo più a nessuno e quindi si tocca una mia libertà di impresa in modo evidente. Quindi questo è un passaggio fondamentale. Noi non abbiamo, perché non è stato costruito negli ultimi 15 anni, non abbiamo un quadro giuridico sotto questo aspetto corretto.